Mi bocceranno e dovrò andare via da Trieste, ma ancora ci spero. Addio, salutami tu e Alice. Sì, addio, Edda. Brutto Lazzarone, tu la conoscevi e non ci hai detto niente, eh? Ah, vieni con noi che devi raccontarci tutto. Allora, chissà cosa ci trova Mitis in quella ragazza. Avere una donna in classe non ti fa effetto. Ogni cosa a suo tempo. Quello delle donne per me ancora non è arrivato. Dove va? Buongiorno Sisi Corsa, è il primo giorno.